e bello di ragazzi e bentornati in questo nuovo video io da pro gamer e io sono jay potete chiamarmi jay e oggi siamo qui con questo episodio e niente sono qua per voglio oggi faremo qualcos'altro siamo nella terza puntata del mio cazzino sul mio mondo in costruzione mi è piaciuta la prima e la seconda puntata sono molto belle e guardate qua vedete cosa ho fatto così le petole non neanche possono scappare i lupi non possono andare a ucciderle la vetrata è molto bella io entro ciao faremo le coltivazioni ok possiamo cominciare subito quindi spostiamo il pietrisco qua e facciamo con le staccionate scusate fatti due recensioni ho fatto non so se avete già visto pure prima una parte l'ho tagliata e ho preso le carote nel villaggio ci porterò pure a fare gli scambi il commercio però quando la nostra nasce si evolverà e ho preso la palla i semi e cominciamo allora voglio fare questa parte soltanto per le carote in alto non è che mi servono molto e lì per il grano quindi il panno fare il mio pane quindi andiamo nella parte e ci piantiamo delle carote non so perché non così così tanto adesso ne vado ad incinerire un po' bravissimo Jay facciamo anche qua così così ragazzi sono state piantate adesso devo piantare le altre cose questa carina è ancora tutta rifinire diventa tutta bellina col vetro perché c'è l'acqua che fa così perché c'è un blocco qua lo ricopro con la lana e che carina poi qui qui ho messo le slab per passare fatemi sapere cosa ne pensate senza toccare l'acqua quindi ragazzi se arriviamo a 5 mi piace dai 5 su troppi 3 mi piace prossimo video quindi ragazzi io spero che il video vi sia piaciuto come al solito mi raccomando lasciate un mi piace commentate iscrivetevi e mi raccomando 3 mi piace al prossimo video e ciao